Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un nuovo video. Intanto vi faccio vedere la tomba di Rachele in Israele. Potete vedere come le persone si trovano intorno ad essa per leggere, pregare e soprattutto la cosa più importante, collocarsi di rimpetto la tomba di Rachele per pregare il defunto. Spesso dopo la preghiera la tomba viene baciata. Ora in questo preciso momento vi ho mostrato una immagine dove non c'è molta affluenza, è la prima che ho trovato, anche se non c'è molta affluenza, comunque più che significativa. Come immagine, interessante, questa è la presunta tomba di Rachele, sottolineo il termine presunta. Basta così. Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Questo video lo volevo fare ieri mattina. Ieri mattina non mi leggevo in piedi, quindi non sono riuscito a farlo perché fisicamente ero a pezzi. Ma gloria a Dio dal mio profondo, del mio essere. Niente, io vorrei fare un video delle lucidazioni. È ricordatorio, se qualche ebreo dovesse vederlo. Sarà un video molto breve. Esiste il concetto di intercessore nel giudaismo? La parola è sì. Il giudaismo è pieno, dalla testa ai piedi, di questo concetto di intercessore, di mediatore. Cioè ci deve essere qualcuno che fa da intercessore, che fa da mediatore fra l'uomo e Dio. Al di là del fatto che viene messo nero su bianco nella loro teologia, sottolineo loro, ma è proprio concettuale. È un po' come i testimoni di Genova. I testimoni di Genova non credono in un solo Dio. Adorano un solo Dio, ma non credono in un solo Dio. Questo ha un nome che adesso mi sfugge. Loro credono nell'esistenza di molti Dio, però ne adorano solo uno. E anche se questo magari non viene messo nero su bianco, però te ne accorgi concettualmente. E questo avviene in tante religioni. Quindi anche nel giudaismo, laddove non venisse messo nero su bianco vero, per coloro che non è messo nero su bianco semplicemente perché ignorano che questo sia stato messo nero su bianco, comunque concettualmente esiste. E lo vedi dai fatti. Perché quando una persona si mette a pregare davanti a una tomba, si mette a pregare quel morto e tu ascolti quello che prega. E nell'ascoltare quello che lui dice, ti rendi conto che sta chiedendo a questa persona di intercedere presso Kadosh Baruch Hu, il creatore santo sei tu, allora 2 più 2 deve sempre fare 4 sul pianeta Terra. Quindi esiste nel giudaismo la figura di intercessore. Interessante questo. Infatti, quando tu leggi il Nuovo Testamento, e questo è un video rivolto non tanto a noi, ma agli ebrei, quando leggi il Nuovo Testamento ti accorgerai che questo Nuovo Testamento è stato scritto da voi. Cioè non è che l'abbiamo scritto noi, eh? L'avete scritto voi, ebrei? Il Nuovo Testamento è vostro, non è nostro. È nostro per adozione? Sì. È nostro per fede? Sì. Ma è vostro in quanto paternità, materialmente parlando, viene da Dio, certamente, ma materialmente parlando, la paternità ebraica è vostro. E quindi l'avete scritto voi, infatti voi, troverete nel Nuovo Testamento questi concetti. ma in maniera perfetta. Infatti è bene che voi leggiate il Libro degli Ebrei. E a proposito di intercessore e mediatore, viene riportato in due passi, che li conosciamo tutti a memoria. Prima Timoteo 2, 5, ebrei 7, 25. Mediatore e intercessore. C'è un solo intercessore fra gli uomini e Dio, Gesù Cristo uomo. Interessante questo termine uomo. Bene, la domanda del milione che si recita, che si propone al giudaismo, è la seguente. Come mai se la Torah proibisce, che ne so, che è Deuteronomio 18? Mi ricordo. Comunque, Deuteronomio, non solo, di consultare i morti per far tornare in essere i vivi, e così non consultare i pitoni, e così via discorrendo. Come mai si concretizza questo? Bene, il Talmud, il Talmud fornisce la risposta, e ci sono due possibili interpretazioni. A tal proposito, la prima interpellazione, me la sono scritta, la recita a quanto segue, e dice il Talmud, ma noi non preghiamo direttamente il Chacham, cioè il sapiente, il saggio, nello specifico stiamo parlando di Rachele. siccome Rachele ha sofferto molto, è quella che viene più stimata, probabilmente anche più di Sara. Quindi noi non preghiamo direttamente il Chacham, quindi Rachele viene definita Chacham, cioè sapiente. chi c'ha dei sapienti, però vabbè. Comunque, noi non preghiamo direttamente il sapiente, il Chacham, il morto, ma preghiamo Dio, che per i suoi meriti si ricordi di noi. Cioè tu non preghi direttamente il morto, ma preghi il Dio, però lo fai attraverso il morto, però ti rivolgi al morto, e baci la sua tomba. Ma sono un po' confuso, siete riusciti a confondermi. La seconda interpretazione è la seguente. No, no, è permesso, dice il Talmud, i Chachamim talmudici, i sapienti, dicono, no, no, è permesso parlare all'anima del Chacham, del sapiente, ma solo se gli chiediamo a quest'anima, a dove sta quest'anima, vabbè, che ci faccia da messaggero davanti al Signore. al di là del fatto che la Torah dice di fare una cosa e il Talmud va contro la Torah, comunque, interessante notare che nel giudaismo esiste il concetto di intercessore. ora, tu mi devi spiegare una cosa, ti faccio una cosa, esiste un solo uomo, ricordati quello che ha detto Salomone, sulla faccia della terra che non abbia mai peccato? esiste? che non abbia commesso almeno un solo peccato? e allora, visto che sappiamo tutti che così non è, non esiste, come può un uomo, anche se sa agio, tutto quello che ti pare, intercedere per te? se lui è come te? se tu mi vuoi rispondere biblicamente, non potrai mai farlo, ma se mi rispondi talmudicamente, andando contro la Bibbia, non ti mancherà il supporto letterale, letterario, e così via discorrendo. Stavo riflettendo a una pratica, si dice di visitare i cimiteri per ricordare che un giorno dovremo morire, vabbè che c'è bisogno di visitare il cimitero per ricordare che devi andare a morire ammassato un giorno di questi, scusate come ve l'ho detto, va bene visitare i cimiteri se chi lo vuole fare assolutamente e curare le tombe, io sono favorevole al 100%, ma io non vado al cimitero perché così mi ricordo che un giorno devo morire, perché tutti lo sappiamo che dobbiamo morire e non ce lo dimenticheremo mai e questo mi porta a un altro ragionamento. Metto le due cose insieme, due oggetti un po' diversi insieme, ma giusto per farvi comprendere. C'è una storia di un uomo che adesso non ricordo il nome, uno dei più grandi cabalisti che Israele ha posseduto. era fortissimo questo cabalista e a un certo punto c'è tutta la storia, un suo discepolo, vedendo che il suo maestro tutte le mattine si assentava per tot e tempo, entrò dentro il suo ufficio prendendo la chiave che era completamente proibito e vede il suo maestro dentro una cassa da morto quasi seppellito dalla cenere. C'è tutta la storia, poi lui se ne accorse e gli disse vuoi a te se sveli questo segreto prima della mia morte e infatti lui non lo svelò se non che dopo la sua morte. e quando gli chiesero ma che giustificazione ti diede lui disse eh mi diede una grande giustificazione lui mi disse che lo faceva perché così lui non avrebbe dimenticato che un giorno sarebbe dovuto morire e che era un comune mortale. e io dentro di me ho fatto la famosa domanda del milione tu ci hai creduto pollo che non sei altro ovvero io non credo neanche a lui intanto tu fai una cosa del genere perché non ti devi ricordare che devi morire che sei un comune mortale ma dai sono una cosa ma poi ma chi ci crede quella pratica che è molto simile a quella che faceva Adolf Hitler solo che Adolf Hitler invece di mettersi dentro una cassa da morte pieno di cenere si metteva dentro la vasca da bagno che simboleggia la cassa da morto e si imbrattava di sterco umano pratica satanica per acquisire potere e quant'altro e questo a dirlo sono stati i grandi storici e la stessa cosa ha fatto questo qui questo rabbino cabalista che si metteva dentro questa cassa da morto cosparso di cenere non per ricordare che un giorno doveva morire ma per cortesia ma queste barsellette andatele a raccontare a qualcun altro queste sono cose scritte nello Zohar e vabbè questa è storia però sono sono queste se tu leggi lo Zohar che non dovete leggere assolutamente ma quando investichi ti accorgerai di tutte queste pratiche questo per dire ho messo questo a fianco al pregare i morti in virtù del fatto che nel giudaismo viene contemplato l'intercessore come ormai il giudaismo moderno è completamente tutto deviato dal vero giudaismo biblico che non è un giudaismo talmudico ancor meno cabalista che poi la cabalà questi principi vengono permeati dall'Israele già dall'Egitto poi Babilonia gli ha dato la botta finale e la Grecia l'imperio ellenico proprio la ciliegina sulla torta sì c'è un intercessore voi in questo avete ragione quando cercate gli intercessori che poi sono molti e costruite le vostre sinagoge sulle tombe perché effettivamente voi avete bisogno di un intercessore ma non può essere un intercessore difettoso perché l'agnello deve essere senza difetto senza macchia e non poteva essere grande d'età doveva essere giovane un anno e questo implicava anche verginità tutte queste cose le era chiuse Yeshua Hamashia giovane 33 anni vergine e senza macchia senza errore senza peccato niente riflettete bene quello che fate il salmo 49 che io lo cito sempre per svergognare i cattolici che tra cattolicesimo e giudeismo moderno non c'è nessuna differenza il salmo 49 dice che il riscatto dell'anima non ha prezzo cioè non si può neanche riscattare un'anima figuriamoci pregarla ormai l'anima è andata al suo destino eterno e Gesù ebbe a dire in Luca non mi ricordo se è capitolo 16 il ricco e pulone e Lazzaro che quelli che stanno di là non ci possono ascoltare quindi riflettete quando cercate l'intercessore chi è questo intercessore perché per quanto tzadik sia stato non è stato senza macchie errore senza peccato l'unico come dice Isaia 53 che ha portato questo questa verità a tutte le gente a tutti i gentili è stato il Signore Gesù solo lui tutti quanti gli altri non lo hanno fatto in Abramo le Igoim sarebbero stati benedetti e chi ha fatto questo è stato Gesù Dio vi benedica con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti se il Signore vorrà ci si vedrà al prossimo videoprogramma Shalom Sì Grazie.